Hotel Suisse di Lido di Camaiore, maggio 2021 Causa virus 19, il ritardo ma si festeggia il compleanno di Luciano Daffiano Video, audio, foto, mix di Walter Giusti Iscriviti al canale Da ottobre a aprile Siamo tutti a pranzo da Luciano. Buon appetito a tutti. Menù speciale al Swiss Hotel di Camaiore. Tutto buono, tutto buono. Grazie, grazie Luciano D'Appiano. Poi c'era Milo, mio parente, tutti erano giovani. Poi facevano anche un po' di tassi. Perché li portarono a bere lì al dopolavoro, il fascista, il dopolavoro, insomma, li portarono a bere e poi dopo meno male che dopo li portavano via, li portavano questi testi, li portavano via. Metteva sotto il tutto il destro, la porta e finestra, almeno se parlavano tutti i denti, poi quella volta che un tedeschino il pantello non l'ha detto. Allora non ridete. Ecco, va bene. Dopo un'altra volta vennero con loro la Volkswagen, tipo la tua, no? Scoperta. Sai? La Volkswagen vennero, tutti i tedeschi. E anche lì, dai, tutti i partigiani, tutti intorno, a bere. E poi li mandarono giù, li mandarono via. Però... Guarda là che dolce. ...messero il mio cugino del Carlo che è morto a settembre a Milano, il 23. E Rinaldo che fa morire dopo che era... Anche lui. ...un altro di dopolavoro, no? E li misero dietro, sul parauti, sul parauti, no? Sì. Capito? Alla capota così. E' arrivato il dolce. Capito? Una macchina. La bomba, capito? E poi c'è, quando arrivano lì sotto l'oppegna, sotto il cimitero, allora... Non era così la... Guarda! Non era così la strada. Mamma mia giù. L'hanno fatto nuova ora. Era diversa. Perché tirano questa bomba. E... Tirano una bomba e... E... Gli picchio sul... È troppo lungo. ...del muro. C'è muri in pietra. C'è la strada. Tutto succede, no? Tutto succede. Ecco. Meno male. Ora dimmi te. Si va a tirare una bomba e c'è due persone, due ragazzi. E le bombe. C'è... C'è... C'è dei catini, no? C'è parte già. Capito? Capito? Meno male. Meno male. E i rastellamenti. Poi dopo... Era d'agosto. Il 2 agosto. Prendono... Lui. 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 I rastellamenti. I rastellamenti. I rastellamenti. I rastellamenti. Bella ciao. Bella ciao. Bella ciao. Ciao ciao. La mattina mi sono accetto. E ho trovato... Luciano. Capito? Ecco. Perché non devo dirle? È troppo lunga poi... È troppo lunga. 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 portare le chiappe chiare sul fermare sul fermare un po' di voce ci voleva portare le chiappe chiare e il vaccino la tragedia non l'ho fatta, l'ho fatta il piffero, la normalità non l'ho fatta l'ho fatta tutta quella roba c'è lì forca miseria, belle scarpe dove le ho impratte? le ho comprato alla vetone io l'ho pagata 10 euro guarda te c'è una sega, te li che adoro, vedi qua si la competizione vede via sai dove l'ho comprata? quando hanno fatto la pistola a vetone c'è quel di adoro che è il camion che vede a metà prezzo da 100 diamo la 50 50 euro però c'è l'albibi con 80 euro ma sono belle si vede si vede che sono belle la sua la vetone il bibi lo conosci no? si ma c'è i belli, c'è anche dei bel pantaloni e poi c'è un bel maglione qui che è proprio di marca è il numero 3 signore e signore con questa dare una vociata questa qui mi fa lo sindaco la sua una cantata che si chiude col canto Harbi ohhh 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 vai vai mi ca accorre i... il ligno di collo allora con questa bella voce credo che dell'inverno ora basta Luciano Daffiano il vecchio il recorgo di incogenito no 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 c'è Luciano Daffiano vi saluta con la mano con Emma o Dino e con la mano Ciao 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 Luciano vi saluta quando scende in piano ecco hai fatto? via, l'hai visto? Ciao. Dai dillo un italiano. Mai del cavolo, mai del cavolo, dillo a te l'ameriano, vai te sei inglese. È bella e buona la tua figliola, te l'ameriano mia. Eh l'hai visto? È bella e buona, e poi c'è anche un bel genere, senza barba, e gli ha fatto anche i capelli, diglielo. Io i capelli te li faccio io al genio, dai. Te l'ha fatto il tuo genere la pelle, mi ha detto lui, vai, guarda là. Cugine. Grazie a tutti. Ciao.